Ciao a tutti, abbiamo parlato sempre di programmazione adesso, arrivo io e vi romperò le scatole con il DevOps, per quale motivo? Perché io adoro il DevOps, adoro Docker, adoro anche l'Aravel perché principalmente sono stato e sono ancora uno sviluppatore PHP. Chi sono? Sono Dario Tranchitella, pseudonimo è Promephirion, TH se leggo Promephirion, è una storia lunga perché mi chiamo Promephirion, chi lo capisce ascolta una musica un pochino particolare, e sono stato software engineer e adesso ho deciso di far parte del mondo DevOps, I switch to the dark side e attualmente sono impiegato per Sokiratec, è una società qui di Verona che è specializzata in DevOps. Poi ho messo il mio bel faccione, non sapevo cosa mettere, la slider era un po' troppo grande, qui ero giovane, non avevo le occhiaia, non avevo neanche la barba, infatti la barba sta crescendo e l'obiettivo della barba è arrivare più o meno a livello di Linux from scratch. Adesso sono a livello Debian, non si possono dire parolacce, vero? Non si possono dire no, volevo soltanto dire qualcosa su Systemd, ma sto zitto, spero qualcuno la capirà su Systemd. Scherzi a parte, di cosa vi parlo? Non parlerò tantissimo, saranno tutte quante demo, infatti ci concentreremo su quello, avremo modo, Homer dice, ah che bello, sperando che poi non succeda questo. Ho già testato tutto quanto, sembrerebbe funzionare, ringrazio Gliugio perché in realtà gli ho rubato questo meme alla container conf dell'anno scorso. Ad ogni modo, iniziamo subito. 12 factors manifesto. Chi conosce il 12 factor? Grandissimo, così se dico delle stupidaggine nessuno se ne accorge, nessuno lo conosce, ottimo. No, scherzi a parte, è un manifesto fatto di 12 punti. Non è principalmente incentrato per gli sviluppatori, o sì, è incentrato anche per gli sviluppatori, però a mio modesto parere è un elemento fondamentale se volete approcciare DevOps. Chi sa cos'è DevOps? Scommetto che DevOps è un ruolo, vero? Sì o no? Oh, meno male, almeno qualcuno dice, perché tutti quanti cerchiamo un DevOps, non è una persona, DevOps è una metodologia. Ad ogni modo, comunque, sono 12 punti e su 12 punti vi farò delle piccole dimostrazioni. Ovviamente il primo punto, non apro adesso la pagina del manifesto, lo trovate su 12factors.com, abbiamo anche la traduzione in italiano, grazie a Francesco Malatesta. Proporrei un applauso, ma poi tutti quanti dicono no. Poi la fattura te la mando, per questo. Comunque, il primo punto è molto semplice, codebase. One codebase tracked in a revision control, many deploys. Ovviamente tutti quanti qua sapete cos'è Git, se non sapete cos'è Git, cambiate lavoro, senza offesa. Lasciando perdere poi il meme su Git, perché ovviamente io Git lo uso da tantissimo tempo, anzi, quando avevo ancora i capelli, tanti anni fa, usavo anche SVN. Chi è che si ricorda SVN? Dai, spettacolo! Sì, tutti quanti riconoscono SVN. Il fatto sta no. Comunque, questo punto è molto semplice. Se volete sviluppare un'applicazione che risponde ai 12 fattori, traduzione italiana, ovviamente il vostro applicativo deve essere su Git per una moltitudine di motivazioni, lasciando perdere feature, quant'altro, eccetera, eccetera. Quindi, primo passo, la vostra applicazione, riuscite tranquillamente a gestirla in 12 factor. Secondo aspetto, dependencies. Ok, tenete conto che questa è la mia visione dei 12 factor. Ho avuto vari scontri, poi io sono molto poco diplomatico dal punto di vista con le altre persone su quello che penso. Ad ogni modo, il secondo punto del 12 factor dice dependencies. Bisogna dichiarare esplicitamente e isolare le dipendenze. Un'applicazione 12 factor non... never relies, non so tradurlo in italiano, scusate, sull'esistenza di packages che sono system-wide. Ok, quante volte, per esempio, vi arriva il cliente e vi dice dovete sviluppare l'applicazione in PHP 5.6 perché magari non potete utilizzare le feature del 7.1 e voi avete sul server installato PHP 7. Questo, per esempio, potrebbe essere un problema. O addirittura volete utilizzare GetText ma avete delle immagini Alpine. Alpine Linux è una micro distribuzione. Io ho provato a installare GetText e sono impazzito e ho detto basta, non uso più Alpine. Ad ogni modo, comunque, come si può risolvere questo aspetto con il 12 factor? Di sicuro con Composer, chi non conosce Composer, tutti quanti conoscono Composer e successivamente, spero che lo conosciate Composer, e successivamente c'è Docker. Il mio talk sarà molto incentrato su Docker perché io amo Docker, di conseguenza parlerò sempre solo di Docker. Scherzi a parte, vi faccio vedere velocemente con un esempio pratico. Allora, 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 lscd2 dependencies. Ok. Cosa abbiamo qui? Molto semplicemente abbiamo un file di Composer.json con tutte quante le mie dependencies. Ad esempio, dico voglio PDO. Ok, ho fatto proprio un esempio molto stupido. Qui ci potrebbero essere tantissime dependencies. Possono essere dependencies sia lato applicativo che possono essere anche dependencies a livello del vostro server. Quindi magari dovete aver installato iMagic, dovete aver installato GD, dovete aver installato PDO, avete bisogno di aver installato qualsiasi altra dipendenza a livello di package. E ovviamente magari poi il vostro applicativo deve avere PHP 7.1. Di conseguenza, con Docker, adesso vi faccio vedere un attimo, sull'S Docker Compose YAML, abbiamo questi due servizi. Abbiamo PHP 7.1 e PHP 5.6. Docker Compose App-D, la magia, there is the magic. E a questo punto, Docker Compose PS, abbiamo i nostri servizi. Perfetto. Docker Compose exec, come si chiama? Ah no, devo accedere all'interno del progetto, scusate. CD larvalday, CD1, non logs, sono sul 2, scusate. Il bello della diretta. Exec, facciamo PHP 5.6, PHP meno version. PHP 5.6, sulla stessa macchina, successivamente ho PHP 7.1. Perfetto. In questo modo voi con Docker riuscite a isolare il vostro applicativo e non dovete più dipendere dal vostro host. Ok? Quando parliamo di host parliamo della macchina che fa partire Docker, che lancia i container, quindi il nostro Docker daemon. Ovviamente poi dovete installare anche tutte quante le dipendenze del vostro applicativo, quindi i vari package. Ma in questo modo riusciamo a soddisfare il secondo requisito. seek, così, in modo per dire. In realtà poi ci sono molte, molte più problematiche che non riusciamo ad affrontare, visto il tempo. Terzo punto, config. Un'applicazione 12 factor stora, scusatemi, salva le variabili di configurazioni e queste variabili devono essere facili da modificare per ogni deploy, per ogni rilascio, senza dover modificare il codice. Ovviamente, non è che voi dovete fare, dovete modificare in git, modifico per la produzione. Assolutamente, ci deve essere tutto quanto all'interno di env. Anche qui abbiamo un piccolo esempio molto interessante. Allora, docker compose down, aspettiamo che parta. Clear, clear, ok. Config. Vediamo cosa c'è. docker compose. Vi faccio vedere velocemente anche il docker compose. Anche qui abbiamo un'applicazione e come potete vedere abbiamo delle environment. Laravel Day uguale 2017. docker compose app meno di magia. A questo punto io accedo al mio terzo esempio, docker compose exec app php artisan thinker. Sono dentro con thinker. Chi non conosce thinker non conosce Laravel, però potete implementare thinker su qualsiasi progetto senza nessun problema. E a questo punto mi vado a vedere la mia variabile d'ambiente, Laravel Day 2017. In poche parole, la variabile che ha messo a riviore che poteva essere un endpoint, poteva essere una chiave, seek, non usate le chiavi come variabili, utilizzate delle config map, ma è un altro discorso, vengono iniettate nel nostro applicativo. In questo modo possiamo tranquillamente modificare tutti quanti i parametri senza dover creare dei mega file di configurazione, punto env, punto production, punto env, punto staging, committarlo, perché ovviamente se voi committate delle chiavi, non dico la parola, però è molto molto male, ovviamente. Giusto per far vedere che si può modificare, facciamo Laravel Day 2018, docker compose app, meno di, dovrebbe aggiornarmelo, esatto, l'ha ricreato, env, 2018, perfetto, funziona. È possibile utilizzare l'injection delle variabili. Tenete conto che queste variabili vengono lette in realtà dal printem, sono le variabili che vengono esportate all'interno del sistema. Infatti, se io mi faccio un bel printemv, sh, docker compose, scusate, docker compose app printemv, se notate ho tutte quante le mie variabili che poi vengono anche iniettate. E in questo caso dovremmo trovare da qualche parte qui, Laravel Day, eccola qua. Laravel Day. Quindi, cosa c'entra Laravel con questo? Laravel nasce nativamente con l'utilizzo del package.em di Lucas, quindi riuscite a creare un'applicazione del factor rispondendo anche a questo requisito. Potete iniettare le vostre variabili. Figo, bellissimo. Andiamo sul quarto punto, backing services. Dovete trattare i servizi back-end come se fossero delle risorse attaccate. Nel senso, non mi vergogno, lo dico, sembra quasi che sia facendo una confessione. Quando non conoscevo docker, creavo delle virtual machine, nella virtual machine ci mettevo MySQL, ci mettevo Redis, ci mettevo tutto quanto, la virtual machine esplodeva a livello di risorse e di conseguenza andavo a creare ovviamente un coupling, perché a quel punto il mio codice sorgente per funzionare doveva essere trasferito insieme alla virtual machine e provate voi a condividere 8 giga di virtual machine anche se Vagrant. In realtà poi con Vagrant è stato semplificato, però un altro discorso. Come ci può aiutare docker con i backing services? Anche in questo caso vi faccio vedere l'esempio. Tiriamo su, giù, un attimo, solo. Ed eccoci qua, cd4 docker compose app-d. Allora, docker compose, così vi spiego velocemente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della nostra applicazione, ovviamente, delle variabili di environment, quindi in realtà qui andiamo a riciclare anche il terzo punto, e successivamente dei servizi differenti. Abbiamo il database e abbiamo la cache in Redis. Molto semplice. Infatti, docker compose exec app php artisan thinker, select show databases. Siamo in Laravel Day, ovvero un database che è stato inizializzato grazie all'immagine MySQL, tramite le variabili di environment, che quando avviano il nostro container del nostro servizio, inizializzano automaticamente un database secondo queste variabili d'ambiente. Ovviamente le variabili d'ambiente devono essere replicate, se notate, sia a livello di applicativo, quindi nella nostra chiave app del docker compose, e successivamente anche qua giù in basso. Ci sarebbero mille altri modi più eleganti, però questo era il più veloce e volevo soltanto farvi vedere come funziona. Stesso discorso per quanto riguarda la cache. Cache connection redis, e ovviamente qui abbiamo la p redis connection. Di conseguenza, qual è l'obiettivo di questa funzionalità? Perché docker e perché Laravel? Perché ovviamente Laravel è stato strutturato molto bene, vi permette di utilizzare il database quasi come se fosse una nostra service, come se fosse effettivamente una risorsa che voi potete appiccicare quando avete bisogno. Quindi, in locale vi tirate su il vostro MySQL, in produzione impattate, non lo so, Amazon Web Services Aurora DB, o eventualmente MySQL for Azure, o eventualmente potete utilizzare le funzionalità memory, o quello che volete, potete anche replicare il vostro cluster MySQL se avete un pass. E questa è la funzionalità di Laravel in funzionalità backing services. Ovviamente è un insieme di risorse, perché Laravel non vi permette di tirare su anche MySQL. Docker vi sta dando una mano per rispettare anche questo quarto punto. Build, release, run. Questo è molto divertente. Una base codice è trasformata in un deploy, quindi non sviluppo, ma in un deploy, attraverso questi tre passaggi. Build, release, run. Voi mi direte, cavolo ma PHP ovviamente è interpretato, non viene compilato. Avete ragione, infatti qua sto un pochino piegando il concetto per dire non riusciamo ad applicare questo dettame, il quinto dettame del 12 factor. Bending the spoon. Ok? Vi faccio vedere molto semplicemente com'è possibile ottenere questo risultato. Docker Compose Down, clear, CD5. Ok. Ho la mia applicazione. La mia applicazione ha un docker file. Docker file che prende un'immagine di default e successivamente fa tante cose. Installa SQLite, installa bcmaf, pdo, pdo SQLite, composer e fa tutto quanto. Ok? Ora, rileggiamo un attimo cosa dice il quinto. Un codice sorgente che viene trasformato in un deploy tramite queste tre funzionalità, cioè tramite questi tre passaggi. Build, release e run. Anche in questo caso Laravel non ci può aiutare tantissimo, ci aiuta docker. Laravel day 2017. Build, release, run. Laravel day 2017. Ed eccolo qui, run. Docker PS. Cosa abbiamo fatto? Tramite il docker file noi riusciamo a prendere la nostra applicazione, incapsularla all'interno di un'immagine docker con dei build arcs. Adesso dovrei spiegarvi anche cosa sono i build arcs. In questo caso noi con PHP è quasi tutto quanto interpretato, ma se doveste eventualmente buildare delle dipendenze, per esempio è uscito PHP 7.2, avete bisogno di xdebug, ovviamente dovete per forza compilarlo. In quel caso dovreste passare delle variabili che servono esclusivamente in fase di build. Ad ogni modo il docker build, che serve a questo piccolo punto, si prende tutto quanto il codice è sorgente, installa tutto quanto quello che devi fare. Dopodiché il meno t che vi faccio vedere qui, questo meno t è una sorta di rilascio, ovvero sto dicendo la mia immagine di docker, che contiene il mio codice, che contiene la mia applicazione, è Promephirion Laravel day taggata 2017. Release. E a questo punto poi il docker run in modalità detached, quindi che funziona il background, se no me lo potrei anche far vedere, e il mio applicativo, che fa lo spawn di PHP e FPM, di Nginx, poi vi spiego il perché di Nginx e PHP e FPM, fa tutto quanto il suo soft provisioning, eccetera, eccetera, eccetera. È vero. Docker PS, docker... Ah, sono rimasto un po' indietro, scusate. Remove, meno F. Ok. Siamo a metà, spero di non annoiarvi troppo, ma siamo a metà, abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Processes. L'applicazione deve essere eseguita come uno o più processi stateless. Ok? Anche qui stiamo un pochino piegando bending the spoon, stiamo un pochino piegando il concetto per renderlo applicabile. Come ottengo io il sesto punto a livello di dwell factor? Utilizzo SupervisorD, SupervisorD è un semplice applicativo, se non sbaglio, scritto in Python, non vorrei dire una stupidaggina, in ogni modo, è scritto in Python, forse, poi mi correggerete, il cui compito è quello di mantenere attivo Nginx o eventualmente PHP, dipende da quello che dovete fare. E anche in questo caso ho deciso di inserire il logo di Docker perché effettivamente se noi prendiamo la nostra applicazione, la buildiamo all'interno di un container, di un'immagine, automaticamente quel container è un processo. L'abbiamo visto prima. Ve lo faccio rivedere un attimo. Docker run. Eccolo qua. Questo è il mio SSH1, il mio codice, e se faccio un Docker inspect, per esempio, del mio applicativo, del mio container, ovviamente ho un unico processo. Se mi mettessi a fare top, adesso qua è troppo incasinato, mi chiedo scusa, vedremo che c'è esclusivamente questo unico processo, SICK, per modo di dire, perché in realtà i processi ce ne sono molto di più, ma abbiamo un unico processo che si occupa di far partire la nostra applicazione. Per quale motivo SupervisorD? Qualcuno mi sa rispondere? Magari qualcuno dice, conosco già SupervisorD? Nessuno ha mai avuto il problema? Eh! Già tu mi hai visto con la tastiera di B, quindi probabilmente capisci di quello che sto parlando. Ad ogni modo, il problema di PHP, come sapete tutti quanti, è che non gestisce nativamente il multi-thread, ok? Di conseguenza potreste utilizzare web server integrato di PHP, ma non è molto performante, oltre che viene consigliato per l'utilizzo soltanto in sviluppo. Di conseguenza molte persone, io sono di questo approccio, utilizzano PHP e FPM in accoppiata a Nginx, quindi Nginx principalmente si occupa di servire tutto quanto il CGI a PHP e FPM e restituire in HTTP. In ogni modo, magari qualcuno mi potrà criticare, però ne possiamo discutere, non c'è assolutamente nessun problema. Settimo punto, port binding. Ritorniamo al discorso di prima in realtà, perché ovviamente PHP può far partire un server, può bindare le porte, ma in realtà la funzionalità, stiamo sfruttando Docker, Docker ci permette di effettuare il port binding, ovvero i nostri servizi devono essere associati a una porta. Anche qui l'esempio è molto molto banale. Fatemi uccidere solo un attimo questo. Ok. Non mi ricordo cosa c'è qui, ah sì, vediamo il Docker Compose. Anche qui, molto semplicemente. Abbiamo una nostra immagine, che è la mia immagine Docker, dopo ci sarà la shameless self-promotion, non vi preoccupate. Abbiamo un volume, quindi il nostro applicativo, siamo in fase di sviluppo, viene montato direttamente tramite un volume ed eccola qui la parte che ci interessa. Port binding. Andiamo a dire che la nostra applicazione deve rispondere a 8080 e automaticamente tutte le chiamate devono essere inoltrate alla porta 8080. Questo è un approccio molto dichiarativo, ovvero si dà per scontato che si fa un binding 1 a 1. In un'ottica cloud, ovviamente molto, molto più complesso, perché vuol dire che stiamo sfruttando una rete decentralizzata, stiamo sfruttando un cluster e di conseguenza subentrano discorsi molto più complessi, che non è che siano proprio così complessi, di service discovery. Però adesso per semplificare la vita vi faccio vedere come funziona. Docker Compose App-D. Automaticamente lui inizia a tirarsi tutto quanto su docker ps. Sembrerebbe essere su elf starting, aspettiamo un attimo, healthy. E a questo punto curl, facciamo 127.0.0.1.80.80. Here we are. Stiamo servendo tramite la porta 80, per quale motivo? Se vi faccio vedere un attimo il codice, non è API web port. Non mi ricordo. Eccolo qua. Get port. Molto semplicemente passo una funzione e gli dico, ritornami la get port. Ok? Se mi mettessi a modificare anche qui il Docker Compose, potremmo dire, invece di servirmi sulla porta 8080, servirmi sulla porta 8081. Faccio sempre confusione, fatemi controllare. Sì, infatti. Stiamo bindando a livello di, sulla loopback, 0.0.0.0.80.81. Curl 8081. 8081. Perfetto. Riusciamo anche in questo caso a effettuare il port binding. Concurrency. Questo io l'adoro. Fantastico. Perché mi sono ritrovato ovviamente con il problema di far scalare la mia applicazione. Tutti quanti mi prendevano in giro dicendo, eh, usi PHP, non riusciremo mai a scalare. Invece no, si riesce a scalare anche con PHP. Merito di Docker. Soprattutto quelli che usano Java ci prendono in giro. Però, in ogni modo, è un altro discorso. Ovviamente sto parlando di scale out, non di scale up. Solitamente quando c'è bisogno di scalare, la vecchia maniera, compro un VPS molto più forte, molto più potente. E a questo punto la mia applicazione gira. Sì, peccato che ovviamente la tua applicazione è sempre una comunque. Dunque, anche se fai girare fast CGI, se ti muore quel server, tu hai perso tutta quanta la tua applicazione. Docker invece no. Ci permette ovviamente di sviluppare applicazioni che possono effettuare scale out. Ovvero, possono tranquillamente estendersi su n nodi, o eventualmente tot istanze. Vi accapino da molto senso, però, in tot istanze all'interno del nostro host. Anche qui, bellissimo esempio. Concurrency. Qualcuno, il più attento, noterà che finora ha usato Docker Compose. Docker Compose è uno strumento molto interessante, scritto sicuramente in Python, perché se sbagliate qualche comando esce Python exception. In questo caso invece vado ad utilizzare un'altra funzionalità che si chiama Docker Stack Deploy. Vado a prendere il mio Docker Compose e lo chiamo Laravel Day. Quindi, ci sarebbe anche da parlare di Docker Stack. Infatti io tutti quanti, quelli che mi dicono, mi sto approcciando a Docker, gli dico sempre, utilizza Docker Swarm. Non l'ho fatto vedere all'inizio, ma il mio computer, all'inizio ho fatto un Docker Swarm Init e di conseguenza in realtà è un nodo Swarm. Solo, però, in realtà è in modalità Swarm. Vi spiegherò poi il motivo perché. Ad ogni modo, Docker PS. Se notate, ho tirato su un load balancer, adesso qua non si vede molto bene, Docker Service LS, ok, perfetto. Abbiamo la nostra applicazione, Replicated 1 di 1, e il nostro load balancer. Per quale motivo? Perché se noi andiamo a bindare la nostra porta 8080, cosa succede? Nel momento in cui facciamo partire una seconda istanza, la porta 8080 è già occupata, e di conseguenza non va assolutamente bene. Soluzione? Utilizzare un service discovery, quindi il vostro orchestratore assegnerà una porta random, ci sarà poi un key value, solitamente su Kubernetes si utilizza etcd, su Docker Swarm in passato si usava console, e ci sono tantissime soluzioni. A me console non piace, non sono mai riuscito ad usarlo, ad ogni modo. In questo caso io cosa sto facendo? Sto sfruttando le network di Docker, un argomento ancora più complesso, non tocchiamolo assolutamente, che prende tutti quanti i pacchetti e li gira a livello di upstream al mio applicativo. Ok? Di conseguenza, se io faccio un bel curl 127.0.0.1 sulla porta 80, mi ritorna 89C07. Cos'è su 89C07? Docker PS, eccolo qui, è la mia istanza. Vi faccio vedere, dato che abbiamo tempo, come è stato configurato Nginx. configurato malissimo, non guardatelo, ma soltanto per farvi spiegare. Abbiamo un proxy pass che mi dice, passa tutte quante le richieste che arrivano nella location root ad http app 2.8080. Anche questo qua è sbagliatissimo, non guardatelo. E' semplicemente per farvi capire come funziona. E' semplicemente un reverse proxy. Road balance è reverse proxy, chiamato come volete. Ad ogni modo, anche qui vi faccio vedere come funziona l'applicativo. Roots web. Anche in questo caso uso la funzione di php get hostname, che non è nient'altro che il nome dello sname. Lo sname su docker è l'id del container. Docker. PS, meno Q. Eccolo qua. 89C7. Ora, cosa sto facendo? Sto facendo una chiamata ogni secondo al mio 127.0.0.1, che potrebbe essere anche l'indirizzo del vostro sito web, chiedo scusa, ho usato la parola sito web, adesso sto malissimo, al vostro server, mi chiedo scusa, ogni tanto il retaggio del programmatore di M. Ora, faccio scalare la mia applicazione. Docker. Mi devo ricordare il comando? Vediamo se lo ricordo. Docker serve. Ops, c'era una bestemmia. Docker service. Non è vero, non è vero, dai. Cancellate, per favore. Comunque, dai, non prendetemi in giro. Ravel day, era 2017. Docker service, ls, docker service scale, larvel day, app, scale app, 10. Me lo so ricordato. Cosa sta succedendo? Sto scalando la mia applicazione a 10 stanze, lasciando per vedere che è tutto quanto su un unico applicativo, cioè su un unico host ed è praticamente inutile, anche perché non sto assolutamente cappando le risorse. Cappare le risorse intendo limitare un consumo di RAM, un consumo di CPU, di tutte quante altre risorse. Ad ogni modo, se notate qua sotto, inizia a cambiare. Questa è una figata. Per quale motivo? Perché stiamo sfruttando il nostro load balancer di Nginx che di default è già in round robin. Round robin vuol dire che prende un pochino a caso, non è vero, però prende a caso le stanze e le distribuisce. Era per semplificare, scusatemi. Successivamente stiamo utilizzando i DNS di Docker, ovvero se io faccio Docker PS, posso, vedete lo stesso, è forse un po' troppo piccolo, però adesso non vedete probabilmente nulla, ok. Ad ogni modo, se notate, noi abbiamo un servizio di load balancer e successivamente abbiamo le nostre stanze che è sempre la stessa immagine, stiamo parlando di Laravel Day App, ok? E infatti Docker Service, se vado a vedere il process list del mio servizio, che si chiama Laravel Day App, potete vedere che abbiamo dieci stanze running che sono state tirate su una quattro minuti fa e una un minuto fa, ok? Perché sto usando Docker Swarm? Giusto, dato che ho tempo ve lo spiego, perché con Docker Compose non funziona molto bene il DNS, anzi non funziona assolutamente. Di conseguenza dovreste mettervi lì, modificare a manina l'app stream, inserire tutti quanti i vari server, dire Laravel Day App 1, Laravel Day App 2, poi magari quando scalate, che poi comunque cosa serve è scalare in locale, ma di ogni modo, dovete mettervi ad aggiornare perché se non aggiornate poi lui manda la richiesta a questo server, il server è morto e vi ritorno ovviamente 503, non mi ricordo, mia colpa, mia grandissima colpa, non me lo ricordo. Ad ogni modo, sfruttando il DNS di Docker, in questo modo riuscite tranquillamente a fare concordancy e scalate, e questa è la cosa positiva, scalate. Ad ogni modo, ricerchiamo il comando Docker Service Scale Laravel Day App 1, oh no, ho fatto 11, 12, scaliamo 1, e automaticamente, guardate, poco per volta si focalizza esclusivamente su 1, di conseguenza riuscite a ottenere anche una sorta di graceful, non ci sono state exception perché mi dicono, guarda che il server non esiste, questo è un vantaggio di Docker, piuttosto che di Laravel, ovviamente, perché sfrutta i suoi DNS. comunque, Docker Stack Remove Laravel Day, Docker PS, non c'è niente, perfetto. Disposability, eccola qui, shameless self-promotion, ok? Anche in questo caso il merito è di Docker, ad ogni modo, chi frequenta un pochino il gruppo Slack del GRUSP, chi non lo fa glielo consiglio caldamente perché è molto interessante, ci sono tantissime persone, si discute tantissimo, ogni tanto si litiga, ma è normalissimo. Qual è l'obiettivo della disposability? Non so neanche a tradurlo in italiano, ogni tanto mi capita, mi concentro sempre sull'inglese e non riesco più a parlare in italiano. Ad ogni modo, l'obiettivo è che la vostra applicazione sia molto veloce da tirare su e che soprattutto sia graceful shutdown. Alcuni dicono, che me ne frega del graceful shutdown, invece è importantissimo. Per quale motivo? Perché se voi state servendo una richiesta che ci impiega, la butto lì, lo so che non si dovrebbe fare, ma ammetti che ci mette 5 secondi e voi tirate giù il servizio perché avete fatto il deploy di una nuova versione, il povero Cristo che si trova lì, ovviamente dice, oh, connection reset by the peer, ovviamente, perché voi avete ranzato via il vecchio servizio e ne avete tirato uno su. L'obiettivo del graceful shutdown in determinati contesti è fondamentale, o almeno è fondamentale se utilizzate Docker Swarm. Docker Swarm è un sistema che vi permette di orchestrare container, è abbastanza primitivo, non dovrei dirlo, perché sembra che sto parlando male di Docker Swarm, però in realtà funziona molto molto bene, gli mancano determinate feature, non può essere paragonato a Kubernetes, a OpenShift, a Mesosphere di COS, però comunque aiuta tantissimo. Tante parole, scusate, adesso faccio la shameless self-promotion. Perché? Per quale motivo? Perché mi sono impegnato tanto per cercare di creare un'immagine PHP che effettivamente rispondesse a questo punto, il che è abbastanza complicato, effettivamente. Per quale motivo? Perché ovviamente il processo PHP non è gestito da PHP, lo stiamo gestendo tramite supervisor, ok? E soprattutto non abbiamo soltanto PHP, abbiamo anche Nginx, poi vi spiego successivamente il perché sto usando anche Nginx. Di conseguenza cosa succede? Il mio container, il mio servizio, si riceve un SIG term e automaticamente deve fare attenzione a non uccidere i servizi che stanno servendo delle request, perché sennò ovviamente gli troncata la connessione, l'utente è incazzato, magari... non devo dire parolacce, l'ho detto. Scusate. Si arrabbia tantissimo perché magari stava transando con carta di credito, non capisce, è rimasto appeso nel vuoto e ovviamente poi vengono a farvi le scatole dicendo il servizio non funziona. In ogni modo, a me è capitato, è capitato tutti i giorni in realtà. Ormai non capitava tutti i giorni, ormai non faccio più lo sviluppatore. Allora, in ogni modo, andiamo... scusate, io scherzo molto. Disposability. Allora, faccio vedere anche qui il Docker Compose. Molto, molto semplice. Stiamo esponendo sempre la porta 8080 e ho la mia immagine, che usatela se avete voglia, se non avete voglia, infatti i vostri. Comunque, se trovate qualche errore, fate pure questo, che fanno sempre molto piacere. Se avete insulti, insultatemi, non è assolutamente un problema, ci divertiamo. E abbiamo una piccola applicazione, l'Aravel anche in questo caso. Cosa faccio con l'Aravel? Roots, web... ho fatto un semplice slip. Ok? Faccio finta di processare 5 secondi, non avevo voglia di mettermi a fare un loop per consumare RAM, e poi successivamente fare il turno del lost name. Ok? self-starting, starting, starting, healthy. Ok, ci siamo. Cool 127.0.1. Come notate, io non amo i browser, a me piace tutto quando ho linea di comando, sono un feticista. 5 secondi. eccola. Avevo paura che non funzionasse, invece non funziona. Meno male. Ad ogni modo, ho simulato il fatto che la richiesta impiegasse tanto tempo. Ora, cosa succede? Se voi fate rilasci, non dico giornalieri, ma ogni ora, o almeno presumo che qualcuno lavori qua in un'azienda che faccia rilasci ogni ora? Sì, grandi, grandi. Qualcuno fa rilasci ogni 9 mesi, no, vero? The Phoenix Project, leggetelo, divertentissimo. Cioè, in realtà a me ha fatto piangere, perché è la vita. Ad ogni modo, comunque, se voi fate rilasci frequenti, ovviamente non potete deployare la roba a mezzanotte, dicendo c'è poco carico, speriamo che vada tutto quanto bene, perché poi da mezzanotte alle 8 se si spacca qualcosa, ovviamente, gli utenti si arrabbiano ancora di più, e di conseguenza, l'obiettivo è cercare di fare rilasci, sempre in continuazione, senza spaccare la roba. E qui entra in gioco il graceful shutdown seek saving contest. Poi vi spiego il motivo. Ad ogni modo, docker-compose-logs-f, docker-compose-logs-app. Ok. Semplicemente un tail del log. A questo punto mi apro una seconda finestra, faccio il mio bel curl, docker-ps, e mi preparo a fare la chiamata curl, quindi far partire la richiesta e uccidere il container. Quindi, ipoteticamente, il container sta servendo una richiesta, ma io sto facendo l'aggiornamento. E ovviamente non lo devo tirare giù. Speriamo che funzioni. dovrebbe funzionare. Remove 34b. 34b è l'inizio dell'hash del container ID. La richiesta è servita, lo uccido. Ah, meno f. Non ha funzionato, scusate. Scusate, perché ho fatto il force, non devo fare il force. Docker-compose, bello della diretta. Devo fare docker-stop, docker-ps, docker-stop 84. Non si vede più un cavolo. 84. 84. Infatti la richiesta la serve. Ora faccio il curl e lo stop. Eccolo, funziona. Ecco fatto. Lui la richiesta l'ha servita. Abbiamo trappato, abbiamo catchato, passatemi il termine, non so tradurlo in italiano. Abbiamo trappato il SIG term che abbiamo inviato al nostro container. E abbiamo aspettato con supervisor D dicendo, guarda che abbiamo ricevuto questo comando che devi uscire. Ti do 10 secondi. Ho deciso io 10 secondi. In realtà poi dovreste valutarlo anche voi un attimo sul life cycle delle vostre request. E soltanto quando tu hai servito tutto quanto, a quel punto esco. Infatti, se notate, guarda che sto aspettando. Guarda che sto aspettando. A quel punto poi abbiamo il log che dice, ho servito la richiesta che arriva da curl e a questo punto ho ucciso il container. Ovviamente, ho fatto una stupidaggine prima, ho fatto una cavolata prima. Dovete stoppare i container. La maggior parte degli orchestratori stoppano i container. Non dovete uccidere i container. Perché se voi volete uccidere un container vuol dire che magari è stato compromesso. Se poi volete informazioni su un tool molto interessante per valutare se un container è stato compromesso, ne parliamo dopo. Marchettata, scusate. Ad ogni modo, comunque, in questo modo siete sicuri che la vostra applicazione riesce a rispondere a tutte quante le request. Per quale motivo io l'ho trovato fondamentale il graceful shutdown? Lo vedremo anche dopo, che in un altro punto del 12 factor, ma non ne parliamo adesso, ne parleremo dopo. Ci siamo quasi. Dev prod parity. Vabbè, questo è molto semplice, non vi posso far vedere nessun esempio. Nel senso che, ovviamente, il nostro applicativo deve essere il più simile a sviluppo, staging, production, pre-production, and so on. Questo cosa vuol dire? Noi ci siamo resi conto, almeno nell'azienda in cui lavoravo prima, che lo sviluppo, ovviamente, anche se usavamo Docker, non era allineato. Nel senso che vi erano delle logiche che non funzionavano. Infatti abbiamo deciso di replicare lo stack di produzione, grazie a Docker Swarm, anche in locale. In produzione attualmente stanno usando ancora Docker Swarm e in locale utilizzano Docker Swarm, sfruttando i DNS di Docker. E abbiamo notato che, ovviamente, sfruttando tutti quanti i concetti del 12-factor, effettivamente lo sviluppo è andato a bomba. Ovviamente, tantissimi bug sono riusciti a emergere, perché ovviamente, solitamente la scusa che si faceva prima di Docker è, it works on my local machine. Ogni tanto con Docker, dici, riesci a risolvere questo problema. Non è sempre detto, perché ovviamente più l'orchestratore è complesso, più diventa difficile riuscire a replicare l'ambiente di produzione sul vostro PC, sulla vostra postazione, scusate. A maggior ragione quando utilizzate orchestratori molto complessi, come Mesosphere DCOS. Io ho avuto un'esperienza con Mesosphere, che è un orchestratore, un sistema operativo allucinante, molto interessante, però molto oneroso in termini di risorse. Ad ogni modo, qui sta a voi, ovviamente. Dovete cercare di costruire il codice più agnostico a livello infrastrutturale possibile, e qui Laravel vi dà una mano allucinante. Qua il punto è esclusivamente di Laravel. Dovete utilizzare l'adapter local, dovete utilizzare quando siete ovviamente in fase di sviluppo, dovete usare l'adapter S3 se siete su Amazon in produzione, o dovete utilizzare qualsiasi altro vostro adapter, se utilizzate Safe Storage, se utilizzate qualsiasi altra soluzione di storage che non è implementata, vi potete scrivere il vostro adapter, alla fine ci sono interfacce, lo fate e funziona. Ok, ci siamo, siamo verso la fine. Logs, anche qui merito di Docker e merito ovviamente di Laravel. Anche in questo caso Laravel vi fornisce, vi dà la possibilità di decidere come buttare fuori i suoi log applicativi. Non dico soltanto di log, di assets log e di exception dei vari servizi. Anche qui, piccolo esempio. Allora, docker ps, dovremmo essere puliti, esatto, cd11, ok logs docker compose app-d. Docker compose logs-f app. pop, 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 cd11. Come potete vedere io amo vim, amo con un vim con tutto il mio cuore. Faccio vedere cosa fa. Inietto tranquillamente nella mia funzione il logger e faccio log me e successivamente ritorno gethostname. Ho fatto l'error per essere sicuro che venisse catchato. Ora, il punto sui logs del 12factor ovviamente vi dice che non dovete gestire il file, deve essere uno stream, un evento, ok? Noi siamo abituati ad avere il file.log. L'obiettivo è che la vostra applicazione sia stateless, non deve avere assolutamente nessuno stato. La vostra applicazione non si deve neanche occupare di ruotare i log. Cioè, c'è la funzionalità su Laravel di usare il log rotate, ma è da passi. Cioè, se noi vogliamo costruire un'applicazione che sia cloud native, ovviamente non se ne deve assolutamente occupare. Possiamo pensare quasi al primo principio solid, ovvero di singola responsabilità, l'applicativo che gliene frega dei log. Ad ogni modo, ci viene in aiuto docker, quindi faccio la mia chiamata curl 127.01.8080. Ed eccola qui. Tutti quanti gli eventi vengono sputati, scusate il termine è poco elegante, ma sono sputati, mi piace il termine, nell'STD out, ok? Sto utilizzando la funzionalità di Laravel, error log, ok? Ovviamente, error log avrei potuto utilizzare syslog e successivamente installare syslog per buttare tutti quanti log in via TCP da qualche altra parte, però error log almeno ce li abbiamo all'interno di docker. Per quale motivo all'interno di docker? Perché docker solitamente viene fatto funzionare su distribuzioni che usano systemd. Io ho fatto prima una battuta su systemd, adesso devo dirlo. Systemd funziona molto bene dal punto di vista con il suo journal D. E di conseguenza voi avete questo evento di log che potete prendere e girare a Fluent D, a Logstash, a Elasticsearch, a tutto quanto quello che volete. In questo modo la vostra applicazione non se ne deve occupare e ci sarà poi il parser, che sarà Grok in caso di Logstash, che dirà questo è un assets log, questo eventualmente è un log di business e così via. Mi fa uno segno che bisogna muoversi, ma abbiamo quasi finito. Admin processes, sì abbiamo finito in realtà, posso anche alzarmi perché non ci sono più esempi. Questo è merito di Laravel, ovvero bisogna poter utilizzare dei task one off, ok? Dei comandi, quindi se dobbiamo migrare abbiamo il nostro php artisan migrate, se dobbiamo fare la pulizia della cache abbiamo php artisan cache clear. Un piccolo appunto in realtà, se state cercando di creare dei servizi cloud native con Laravel, gli admin processes, che dovrebbe essere questo per esempio, che può essere anche lo scheduler run, per esempio, che deve essere girato ogni minuto, il consiglio che vi do è cercate di stanziare un container senza condividere volumi. Istanziate un container con le stesse variabili di ambiente che si occuperà esclusivamente di quello. Per quale motivo? Perché sfortunatamente ci siamo resi conto, mi sono reso conto, che se ci sono degli scheduler che durano minuti e voi state facendo un deploy e magari questi scheduler sono without overlapping, quindi non si devono sovrapporre, cosa succede? Quella chiave viene salvata su Redis, se usate Redis, e automaticamente quando riparte lo scheduler Laravel sta vedendo che quel job, quel comando non è stato ancora concluso e non fa ripartire lo scheduler. Di conseguenza, quello che io dico in questi casi, che è un'applicazione legacy, si fa la cacation. Cacation cosa vuol dire? Si fa un cron job che ogni 5 minuti va a cancellare le chiavi da Redis di quelli scheduler rimasti appesi. Proprio schifosissimo, però almeno a livello legacy riuscite a risolverlo. Ovviamente, se sfruttate un sistema di orchestrazione come Kubernetes, OpenShift o qualsiasi altro orchestratore, potete risolverlo in maniera molto semplice. Fate un pod, fate un container che si prende tutte quante le impostazioni, potete farlo anche tramite Jenkins e a quel punto avrà il container che farà tutto quanto il suo comando, uscirà e siete ben lì che apposto. Queste sono le references, se volete segnarvele. Una cosa importante, ho creato su GitHub tutti quanti file, ho comitato su GitHub tutti quanti file per poter replicare. Ovviamente, come vi ho detto, su alcuni non si potrebbero fare degli esempi. In realtà si potrebbero fare, ma non ho avuto tempo, sono rimasto moribondo per tre settimane con la schiena bloccata. Infatti ho gli sprint agile che sono rimasti praticamente indietro, quindi scusatemi. Però se mi fate star, fork e quant'altro, io vi scrivo il redmi, quindi cerchiamo di essere collaborativi e vi vengo incontro. Question time, brace yourselves. Se avete domande sono qui, anzi, fatemi tante domande per favore, spero di non aver annoiato troppo e basta. Finito. A presto. A presto.